Diceva Feltri un attimo fa che se si vota tutti gli anni c'è chi vota due volte, perché il PD fa anche le primarie, giusto? Se non mi ricordo male. Assolutamente sì. Le leggo quello che aveva detto lei qualche giorno fa, 11 dicembre. Io avevo dato la disponibilità per una candidatura dal profilo più unitario possibile. Con l'andare del tempo, con l'aumentare delle candidature, si è palesato un rischio che nessun candidato prendesse il 51%. Ora, io penso che fare le primarie, un anno dopo una sconfitta elettorale drammatica, avendo rinviato un congresso che doveva essere fatto molto tempo prima e arrivare al 3 marzo con nessun candidato che raggiunge il 51% sarebbe stato uno scacco politico drammatico per il PD. A quel punto occorreva che qualcuno si assumesse la responsabilità e facesse un passo indietro perché il 4 marzo si abbia un partito funzionante con un segretario eletto con il 51%. Sottoscrive nuovamente. Ma c'è un candidato che prende il 51%? Ma a questo punto mi sembra più semplice, nel senso che nel momento in cui io ho fatto scientemente un passo indietro, l'ho fatto per responsabilità, se poi mi è consentito, anche come un atto di amore nei confronti del mio partito, io penso che il principale ostacolo a raggiungere il 51% sia stato superato. Vede, c'è proprio una stretta connessione. Quello di cui abbiamo parlato prima è l'evoluzione del PD. Perché vede il punto quali in situazioni così difficili, la principale forza di opposizione, con tutti i problemi che c'ha, non è soltanto un patrimonio del gruppo dirigente del PD, è un patrimonio dell'Italia. Per cui l'idea di arrivare ad un certo punto, con una crisi istituzionale del PD, nel momento topico, e cioè appunto nel momento di marzo, prima delle elezioni europee, che saranno le più importanti elezioni della storia dell'Unione Europea, sarebbe stato per me un errore inperdonabile. Ma non chiede discontinuità all'elettorato al PD, in qualche maniera, rispetto al passato in tutti i sensi. Guardi, io penso che chieda una radicale discontinuità. Noi dobbiamo cambiare il PD come un calzino, rivoltarlo come un calzino, ma per farlo c'è bisogno di autorevolezza, c'è bisogno di una forte legittimazione, c'è bisogno di avere un forte gruppo dirigente. Lei si immagini se dopo tutto questo ambaradan arrivavamo al 3 di marzo, con un fatto che nessuno raggiungeva il 51%. E per decidere il segretario bisognava fare l'accordo tra le correnti del PD. Avremmo avuto la sanzione di un partito che era la Confederazione di Correnti. Esattamente l'opposto di quello di cui c'è bisogno. Bisogna cambiare e cambiare molto profondamente. Settiamo Felti e poi le chiedo una cosa ancora. Ho fatto la mia parte, come penso che fosse giusto che io dovessi fare. Due domande, Lampo, ma non ce l'aveva pensato prima. Evidentemente è cambiato qualcosa tra quando ha deciso la candidatura e quando ha fatto la sua valutazione. Ma che ci sono stati? Ma lei ha visto che ci sono stati numerosi candidati. La domanda è Renzi. Allora, sembra di capire che il problema è che Renzi cosa fa, eccetera. Lasciando perdere il ruolo che ha avuto Renzi e la sua candidatura, per il PD è meglio se Renzi resta, se se ne va, se si sta in cinque alle conferenze. Ma guardi, io penso questo. Il numero dei candidati, il fatto che tutti quanti si dicesse che si potevano raggiungere il 51%, mi sembra si sia dato progressivamente squadernato sotto i nostri occhi. Anche perché obiettivamente è difficile pensare che in un partito che ha il 18% possono esserci 7 o 8 posizioni politiche contrapposte. Sembra difficile. Poi le leggeremo tutte e valuteremo quali sono le differenze. Detto questo, io penso che un'eventuale scissione sarebbe drammatica per il PD. La domanda è un'altra, punto interrogativo. Io non penso e non credo che ci sarà. Mi auguro che non ci sia. Spero fermissimamente. Perché vede, noi siamo troppo ancorati alla cronaca politica. Se dopo tutto quello che sta avvenendo nel Paese, il PD dovesse subire un'ulteriore scissione sarebbe un problema storico. Cioè ne parleranno i libri di storia. Perché lei deve comprendere che se di fronte a un quadro di pericolosità e di minacce di cui abbiamo parlato, la risposta del Partito Democratico non è quello di stare all'offensiva ma di dividersi, tutto questo significherà assumersi una responsabilità storica nel rapporto con il Paese. Lei comprenderà che di fronte a questi rischi, se qualcuno dice diminuisco un pochino il mio tasso di personalismo e mi metto da parte non appare un attentato, anzi appare un gesto di amore.